La Regione e il Comune di Campobasso sottoscrivono l'accordo di programma Sistema Scuole Sicure Città e Mobilità. Una firma del documento nella sede della Giunta regionale prevede la realizzazione dei poli didattici innovativi e la risposta alla situazione di emergenza che si è venuta a creare a Campobasso dove molte scuole sono chiuse perché ritenute non sicure. Dunque è il momento di correre ai ripari. Impegniamo 15 milioni e 600 mila euro tra 11 milioni messi a disposizione della Regione e 4 milioni 6 e 25 del Comune. Dimensioniamo il fabbisogno in funzione delle dinamiche della popolazione studentesca della scuola dell'obbligo, materne, elementari e medie. Investiamo 6 milioni sul polo scolastico di Vazieri, 3 milioni e 3 per quanto riguarda Via D'Amato 4 milioni e 250 mila euro per quanto riguarda il CEP e 500 mila euro per la viabilità Via Delle Frasche per garantire l'accesso al geometra. Con il fondo, con l'FSC invece contiamo di dare soddisfazione alle richieste di tutti i comuni della nostra Regione. Abbiamo chiuso con l'ITER per acquisire totalmente il finanziamento, la disponibilità del finanziamento. Partiamo sostanzialmente anche con la progettazione. Ricordo che riguarderà 4 quartieri della città. Sono in gioco circa 20 milioni di euro con tutti i finanziamenti, quindi si tratta di un investimento importante. I tempi, quando è che si partirà? Si parte praticamente da domani con la progettazione esecutiva, attiveremo dei fondi di rotazione per fare la progettazione. C'è una scommessa che faccio tra me e me, speriamo che su qualche iniziativa già per la fine dell'anno potremo mettere la prima pietra. Insomma c'è un'emergenza in città, abbiamo 17 scuole chiuse. E poi siamo in emergenza, ci sono ancora i doppi turni? Ci sono i doppi turni, su Via D'Amato ancora qualche ora, ancora qualche giorno e finiranno i doppi turni. Contiamo che nel giro di qualche settimana ridurremo oppure andremo ad eliminare anche i doppi turni sulla ex scuola Don Milani. Trovata la soluzione? Stiamo individuando altre soluzioni. Ribadisco per chiarezza che la soluzione che abbiamo già individuato da almeno un mese è la scuola di Via Gorizia. Però abbiamo l'altra esigenza, quella di riportare la scuola sul quartiere per garantire la vita, per garantire le iscrizioni, per garantire il polo didattico all'interno della scuola di Vazieri. Quindi stiamo lavorando per individuare altre soluzioni in aggiunta a quella che è naturale oggi, che è la più scontata di Via Gorizia. Contiamo che nel giro di qualche giorno possiamo offrire sia alle famiglie sia al dirigente scolastico la soluzione per riportare sul quartiere e di mattina le attività didattiche. Grazie.